Buongiorno a miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi. È arrivato il momento più bello del mese, il momento in cui si fa il conteggi di quanti dividendi, quante cedole sono arrivate nel conto corrente nel mese precedente, ovvero nel mese di ottobre. Il mese di ottobre è stato un mese per i mercati un po' contrastato, con il Fuzzimib leggermente negativo, le altre borse europee invece tendenzialmente negative, l'S&P 500 con un frazionale meno 1%, il Nasdaq decisamente meglio con un più 4%, l'Anseng un meno 4% circa. Quindi mese con dati un po' contrastati sulle varie borse del mondo. Come è andato il mio portafoglio? Questo in realtà non ha una grande importanza, perché il rendimento di un mese lascia il tempo che trova. Tuttavia, secondo me, è interessante vedere il trend di lungo periodo e qui fa vedere il mio patrimonio, come è cresciuto nel tempo e possiamo dire che negli ultimi anni, questo qui è un'analisi di 13 anni, come nel lungo periodo il trend sia crescente in maniera esponenziale. Questo, ragazzi, è l'effetto della palla di neve dei dividendi che sta crescendo gradatamente nel tempo. Il mese appena concluso ha visto una crescita del patrimonio dello 0,86%. Tuttavia, nel lungo periodo, in questi 13 anni, il capitale è aumentato di 2, 3, 4 volte e mezzo circa. Quindi, insomma, un rendimento direi più che accettabile per un investitore difensivo come me. In questo momento, e poi andiamo a vedere i dividendi, l'asset allocation è la seguente. Con liquidità e obbligazioni a breve termine, che io classifico come monetario, che pesano circa il 22%. Mondo obbligazionario, ovvero singole obbligazioni più ETF, 19%. Per l'azionario siamo sul 47%, singole azioni più ETF, e poi ho una quota in certifiche del 5,6% e fondo pensione in 5,8%. Questa, possiamo dire, la mia asset allocation. Pertanto, che cosa è scaturito nel mese di ottobre? E soprattutto andiamo a vedere il confronto con il mese di ottobre del 2023. Perché il mio unico benchmark è quello di fare meglio degli anni precedenti in termini di dividendi e cedole incassate. Si sa, nel breve periodo, un anno, due anni, tre anni, il mercato sale, scende, e noi non possiamo prevederlo, ma non possiamo prevedere neanche quello che accadrà nel lungo periodo. Invece, i dividendi è proprio quello che rimane nelle nostre tasche. E pertanto il mio obiettivo di pensionamento a 50 anni sta procedendo bene, male? Beh, lo andiamo a vedere in questo video. Allora, i dividendi incassati nel mese. Andiamo a vedere, abbiamo l'obbligazione di Alerion, che mi ha dato un bel 67,50€. Questi sono tutti importi al netto delle tassazioni. Altria, 33,53€. Coca-Cola, 8,33€. Glaxo, 13,64€. Andiamo avanti e vediamo IEMB, l'ETF con dividendo mensile sulle obbligazioni dei mercati emergenti, in dollari, 27,11€. Poi abbiamo l'iShares sulle select dividend 30€, 39,47€. Questo qui è ticker EXSH. Legget template 5,69€. Medical properties 4,56€. Purtroppo queste ultime due mi hanno un po' tradito con i tagli dei dividendi degli ultimi mesi. Poi andiamo a vedere il PINCO, Emerging Market Bond, in dollari, 11,14€. Il PINCO, sempre con dividendo mensile, STHY sulle iGuild, in dollari, 8,63€. STHE, come vedete, c'è un bel buco. Sì, ho azzerato totalmente la posizione. Questa è una delle novità del mese di ottobre. Poi nel video dei acquisti e vendite trimestrali, che arriverà a gennaio, a questo punto, fra due mesi, vi darò quali sono stati i movimenti del mio portafoglio nel complesso. Andiamo avanti e vediamo come sono arrivati 83,82€ da EUDV, che è l'ETF Spider Euro Aristocrats, un dividendo sicuramente molto interessante, lo Spider USDV, questo trimestrale, quello presente era semestrale, 3,17€, sulle dividendo aristocrats americane, poi UG Corporation 42,71€, il Vanguard Emerging Market Bond 21,90€. Anche su questo ho incrementato abbastanza bene, abbastanza recentemente, questo ha portato a un rialzo sostanziale dei dividendi incassati. Sui Certificate ho incassato 169,90€, visto che in ottobre mi è scaduto un titolo di Stato finlandese, anzi a settembre, scusate, mi è scaduto un titolo di Stato finlandese, e non l'ho reinvestito, ma l'ho messo sul mio conto Interactive Broker, che mi frutta un discreto tasso di interesse, ho messo anche la riga sugli interessi maturati sul mio conto Interactive Broker, aperto tramite Maxem, tra l'altro se siete interessati ad aderire a Maxem trovate il link affiliato, in descrizione a ogni video aiuterete il canale a crescere un po', a sostenerlo. Ebbene, gli interessi che sono arrivati sulla liquidità presente sul mio conto Broker è di 69,72€, visto che non le incasso sotto forma di cedole ho creato questa nuova voce e l'importo è abbastanza interessante. Sui Certificate purtroppo avevo terminato le minusvalenze su WeBank e quindi ho pagato Capital Gain di 16,28€. Ho eroso gli ultimi che avevo e invece su queste sono andato a pagare il Capital Gain, ahimè. Tant'è che alcuni certifichi li ho spostati poi su Fineco, dove ho ancora qualche minus da parte, e vediamo se riusciamo comunque a ottimizzare dal punto di vista fiscale il portafoglio. Il totale dei dividendi incassati nel mese appena concluso è di 594,54€, netto tassazione. Non vi faccio vedere, ve lo anticipo già, quanto ho incassato di opzioni, perché? Perché l'importo è abbastanza alto, però intanto mi chiedete qual è la mia operatività sulle opzioni, è un'operatività più rischiosa e per questo non voglio condividere la mia operatività perché ho paura, poiché mi andate a copiare in maniera sconsiderata, senza calcolare i rischi, e non voglio avere peso sulle coscienze, questa è la motivazione. Potrei fare sicuramente tantissime visualizzazioni, potrebbe crescere molto il canale, però preferisco, preferisco così, preferisco la mia tranquillità a numeri più elevati. Questo è quanto, non mi piace vendere fumo, non mi piace vendere sogni, preferisco l'arrosto e il fumo. Allora, andiamo a vedere la cosa importante, ovvero i dividendi. 594 non è tantissimo se lo andiamo a confrontare con gli altri mesi dell'anno, ma la cosa corretta è andarlo a confrontare con i mesi di ottobre degli anni precedenti, perché ottobre è un mese un pochino poveretto, insieme ad agosto, direi, insieme ad aprile. Poveretto, poi per modo dire, insomma, 600 euro quasi di incasso non è affatto da buttare via. Sicuramente mi abbassa la media, ma si confronta con i 555,24 incassati l'anno scorso, ed è sicuramente un ottimo rendimento, direi, un aumento di 40 euro circa, grosso modo è un 7-8% in più rispetto a ottobre dell'anno scorso. Direi che la palla dei dividendi, con questo più 7-8% circa, mi sta coprendo l'inflazione abbonantemente e avanza anche qualcosa. Il totale incassato da inizio anno pertanto è di 11.092,50 al netto delle tassazioni e la media mensile è di 1.109 euro. Mancano ancora novembre e dicembre, che dovrebbero essere mesi più ricchi, ci saranno gli acconti dei dividendi di alcune azioni italiane, ad esempio in Tesa San Paolo, abbastanza ricca, ci dovrebbe essere Mediobanca con il suo saldo, aveva già dato l'acconto a maggio, ricordiamo che Mediobanca chiude il bilancio a fine giugno, quindi non è da gennaio a dicembre il suo bilancio, ma è da luglio a giugno di ogni anno e quindi ha questa distribuzione di dividendi un po' particolare. Dicembre ci sarà l'incasso dei dividendi annuali degli ETF Amundi Lixor, visto che ahimè una volta erano trimestrali e semestrali e adesso hanno deciso di andare a distribuire i dividendi una volta all'anno a dicembre, va bene, ci facciamo una bella tredicesima come regalo per Natale. Quindi direi che l'obiettivo dei 1000 euro mensili, come avevo dichiarato all'inizio dell'anno, è praticamente alla portata, mancano circa 900 euro per arrivare a questo obiettivo, spero dovrei già chiuderlo a novembre e poi dicembre si arrotonda bene e intanto la semina per un 2025 ancora più proficua è già iniziata da tempo e speriamo magari nelle prossime settimane di avere occasioni per incrementare ulteriormente questa semina per avere un bel 2025. Dal punto di vista grafico ho cercato di fare questa tabella che mostra mese per mese e poi nell'ultima colonna il totale degli anni come sta andando l'incasso dei dividendi e anche dal punto di vista grafico mi fa vedere come la palla dei dividendi stia via via crescendo tant'è che la media mensile è ad esclusione del 2020 quando c'era stata una flessione dell'11% è sempre aumentata un più 21% nel 2017 poi 2018 più 46 poi più 24 o meno 11 l'abbiamo detto più 45 più 33 più 21 in questo momento siamo un più 15% rispetto all'anno scorso la speranza è quella di incrementare chiaramente è difficile tenere ritmi di aumento dei dividendi così elevati quando si sale tanto perché un conto è passare da ad esempio 100 a 200 euro è aumento di 100 euro il mio incasso mensile ma raddoppio i dividendi e un conto magari è passare da 900 a 1000 è sempre un più 100 euro ma in termini percentuali sarebbe un più 11% circa questa è la motivazione per cui dal punto di vista percentuale cresco sempre meno ma comunque si continua a crescere e questo è l'importante spero che il video vi sia piaciuto non è un video come dico sempre per dire a quanto sono bravo a quanto incasso ma è un video che serve a me per tenere traccia dei miei investimenti e a voi magari per essere motivati per continuare su questa fantastica strada dei dividendi che tante soddisfazioni ci sta dando se poi volete continuare a seguire i video e magari non l'avete ancora fatto iscrivetevi a investire in Borsa Caccia di Dividendi e se vi va mi fa molto piacere leggere come è andato il vostro mese di ottobre condividiamo anche eventuali idee di investimento o valutazioni per oggi direi che abbiamo finito un saluto a tutti da Lorenzo a presto e ciao